Il cammino dell'olio. Questa è l'interessante campagna di promozione turistica promossa da Vito Panzella e Tony Adesso che passa tra le campagne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che approda direttamente sul web. I due giovani hanno intrapreso un docuviaggio tra gli olifici del Tanagro e del Parco Nazionale e nelle aziende delle famiglie intente nella raccolta delle olive con l'obiettivo di valorizzare l'olio del territorio e fare in modo che attraverso le numerose pagine social si possa creare un canale con le città di Salerno e non solo. La campagna di promozione alimentata da puntuali interviste e contributi filmati, autoprodotti da Panzella e Adesso, prosegue con crescenti adesioni da parte delle aziende degli olifici che hanno l'opportunità di promuovere l'olio extravergine in maniera completamente gratuita. Stiamo visitando aziende agricole e olifici, parlando con esperti professionisti e semplici famiglie del nostro prodotto di eccellenza, l'olio extravergine, quindi stiamo facendo un tour che ci porta a conoscere tante bellissime realtà, vedendo le caratteristiche positive ma anche quello che si potrebbe fare in ottica futura per valorizzare questo nostro prodotto agricolo principale. Uno dei punti di forza è il fatto che ci sono molti olifici che riescono a commercializzare questo prodotto al di fuori anche dei confini del nostro territorio. Un punto di carenza, notiamo che molte volte ci è stato detto dalle famiglie che ci sono pochi finanziamenti, chi ha poche piante e c'è una mancanza di sinergia di rete, un marchio unico non ci sta nel nostro territorio e quindi questa potrebbe essere una proposta per vendere l'olio extravergine d'oliva nel nostro territorio al di fuori e quindi dare più sostanza e più valore ad esso. Ci si può rivolgere al 329-7244-417 che è il mio numero di telefono a Vito Pansello Ottoni Adesso che ha lanciato questa iniziativa e appunto noi questo è l'auspicio di conoscere più aziende e più olifici in modo di andarli a visitare e poterne parlare sul web e lanciare appunto questi video e farli arrivare alle grandi città soprattutto.